Trasferta insidiosa per l'Etrusca che domenica pomeriggio sarà impegnata al Palasport Poggetti di Cecina contro una squadra affamata di punti, che sta ancora navigando in una zona ambigua della classifica, ad un passo dall'ultima posizione playoff ma anche a due sconfitte dalla zona playout. La formazione di coach Roberto Russo tra l'altro è una delle poche da aver battuto la lanciatissima San Mignato, la sola a violare il fonte vivo. L'ambiente è caldissimo, difficilissimo, Cecina secondo me ha veramente fatto, nonostante abbia perso in una serie di partite abbastanza lunga, mi sembra 5 o 6 sconfitte consecutive, ritengo una delle squadre sorpresa di questo girone perché è composta da molti giovani giovani che invece stanno facendo cosse grege, ben allenati e hanno avuto tanti infortuni, tanti cambiamenti, hanno cambiato squadra, è rientrato Turini che era andato via due anni fa, hanno cambiato il playmaker, gli si è fatto purtroppo male un giocatore, hanno un assetto sempre in movimento e nonostante questo sono in zona playoff e possono riuscire ad agguantarli. Partita durissima e tra l'altro in casa ci sconfissero, fu una partita dura perché secondo me è una squadra con la quale noi facciamo fatica per quelli che siamo ad esprimere il meglio, è una squadra vivace, una squadra con meno struttura di altre e perciò per noi è un pochino più complessa affrontarla. Ci proveremo, d'altronde da ora in poi è tutta una battaglia, se vedi i risultati anche di oggi è una battaglia folle su ogni campo dove tre giornate fa 4 o 5 si vinceva con facilità, adesso lotte all'ultimo pallone, tipo la vittoria di Empoli a Torrenova, la netta sconfitta di Firenze a Palermo, cioè ora è una battaglia. Il livello nel giorno di ritorno si appiattisce fra le squadre, tutti hanno un obiettivo importante, tutti ci conosciamo meglio, qualcuno interviene sul mercato per migliorare, ora sarà una battaglia dura ogni domenica. Noi insomma abbiamo iniziato bene il giorno di ritorno, vogliamo continuare, non ci guardiamo la classifica, andiamo avanti una partita alla volta sperando di divertirci sapendo che prima o poi ci amperemo e dovremmo essere bravi a rialzarci e saremo più forti di prima. Quello che mi è piaciuto, lo voglio dire, voglio fare un complimento ai ragazzi che le ho richiamati in settimana a rimanere concentrati su quello che dobbiamo essere, perché è facile adesso sentirsi più bravi e fare un lavoro sporco con meno qualità, invece oggi hanno fatto bene il lavoro sporco, cioè a rimbalzo le ragazzi abbiamo lottato contro una squadra di una fisicità enorme, quindi i bravi si sono sporcati le mani, mi hanno dimostrato di aver capito qual è il messaggio, dobbiamo rimanere questi perché così possiamo competere a alto livello, se ci mettiamo a giocare a palacanestro diversa ci snaturiamo e abbiamo visto già all'andata tipo con Cecina e con Empoli che poi rischiamo anche di perdere le partite.